Ciao a tutti, sono Saia Maranota e vorrei presentarvi Freestyler, questo apprezzo di ultima generazione dove potremo fare un lavoro veramente globale a 360 gradi. Il Freestyler è stato concepito per un'azienda in Slovenia e dà la possibilità di lavorare con questa tavola che ha la lunghezza di 1,20 m per 40 cm di larghezza e si utilizza appoggiando sul pavimento, esattamente potendo appoggiare su una superficie come un piccolo materasso andiamo a lavorare con questi tanti gli elastici che offriranno una resistenza variabile dal numero 1 al numero 7. Ogni resistenza è abilata a un programma e quello che andiamo a vedere e andiamo a provare nei nostri allenamenti è proprio collegato alla resistenza che indica il lavoro fisiologico che andiamo ad ottenere. La prima resistenza andiamo a fare dei blocchi cardiovascolari dove ci permettono un range di movimento di ampiezza più ampio e con una velocità musicale che inoltre appasserà 130-35 dBm. Questa parte cardiovascolare sarà introdotta dal nostro trainer Matt Katia Patini. Poi avremo un secondo modo dove andiamo a lavorare con una resistenza un po' più alta e faremo un lavoro di conditioning dove sarà tenuto dal nostro master trainer Valentina Visconti dove saranno introdotti dei blocchi di lavoro cardiovascolare usando una tempistica 4 minuti di lavoro cardio dove avremo un movimento ampio, continuo, una fase continua cardiovascolare e 4 minuti di lavoro di resistenza muscolare dove andiamo a lavorare le arti superiori e le arti inferiori. Possiamo fare anche dei programmi alternati, B7, B7, alternando segmenti, lavoro è molto molto vario. Avremo anche un altro programma che si chiama Functional Dynamics dove avremo la possibilità esattamente sfruttando questa resistenza di lavorare tutta la stabilizzazione dove avremo degli esercizi in equilibrio bipodalico o monopodalico usando sempre un rapporto di movimento multiarziale e molto articolare. Sarà tenuto da me e tenuto dal nostro master trainer Romana Meluca. Avremo l'ultimo programma, bellissimo, con un approccio molto olistico ma soprattutto quello che è la base per noi nel fitness che è il Pilates e sarà tenuto dal nostro master trainer di Laura Raccozzi. Il Pilates come lo conosciamo può essere fatto con piccoli apprezzi e farlo su una piattaforma o una tabola come questa usando una resistenza andrà ad aumentare il nostro raggio di azione sull'articolazione, sulla mobilizzazione della colonna creando un'ulteriore resistenza facendo con chi abbia un lavoro di postura ancora maggiore. Io vi invito a provare a vedere i nostri workout sempre collegato al nostro sito, invito inoltre a partecipare a una formazione che avremo a Roma il 4 di luglio, domenica, dove saranno proprio proposti un lavoro, una giornata intera di formazioni inerenti a questo prezzo. Vi invito, vi aspetto e vi vediamo il nostro mondo con Freestyler. This is the voice of Freestyler. Grazie a tutti.